Salve a tutti, come state? Spero tutto, tutto bene. Sono le 9.40 ed è venerdì. Ebbene sì, oggi lo sto registrando prima il video perché domani ho un diciottesimo a pranzo e sinceramente non so che ora potrei fare e quindi preferisco anticiparmelo ora così poi domani ve lo carico sicuramente. E in realtà l'avevo già registrato prima questo video con quest'altro telefono solo che mi sembra che l'audio si sentisse meglio con quello e quindi lo sto rifacendo. Comunque niente, io in questi giorni ho un po' di ansia perché diciamo che come ogni cosa arriva il giorno, ebbene sì, sta arrivando il giorno in cui dovrò fare il test di ammissione per l'università e incrociamo le dita, speriamo bene. E diciamo che in questi giorni mi sto allenando, facendo dei test. Inizialmente facevo quello da tipo 50 quesiti, solo essendo che ho visto che la mia prova è da 22 quesiti, me li sto facendo per materia. Infatti ci sono, le sto facendo tipo 10 di logica, 10 comunicazione mass media, 10 cultura generale e 10 di inglese. A me quello che spaventa di più è la parte di inglese. Poi dipende, ci sono volte che faccio veramente zero, volte in cui le faccio tutte bene e poi mi spaventa un po' la parte di tipo cultura generale o principalmente dove chiedo notate o nomi. Ad esempio ci sono delle domande in cui c'è un titolo di un film e viene chiesto chi l'ha fatto, ma io sinceramente non lo so. Poi date, io con le date vado praticamente a nozze. E niente, il 4 giugno di questo mese abbiamo fatto anche il collaudo, così l'hanno chiamato per... c'è scritto sul sito per la postazione, ma io credevo avere un collaudo per, diciamo, non avere problemi durante la connessione, spiegarti come funziona e come non. Però alla fine siamo arrivati per... ci siamo connessi per le tre e iniziavano a fare l'appello nome e cognome. Vabbè, dicevi presente. Poi dovevamo dire le ultime quattro cifre della carta d'identità e far vedere la foto e poi dopo ciò chiedevano di fare un tour della stanza in cui appunto svolgeremo il test. E quando lei ha iniziato a chiedere alle prime persone io ero in panico, cioè adesso a raccontarla, a far ridere, ma in quel momento ero nel panico totale. Infatti preso dal panico avevo preso il computer, il telefono, i fogli dove c'erano scritti delle password e andavo in giro per la casa perché andavo, praticamente stavo cercando la prolunga per mettere a caricare il telefono e il computer. Però poi non l'ho trovato e mi sono arreso. Poi a un certo punto chiede di mostrare la stanza, però non a me, cioè ancora eravamo alle prime persone. E per me dove andrò a svolgere il test inizialmente non era adatto perché non lo farò in questa stanza, ma in un'altra. Perché c'erano libri, cose, e quindi preso sempre dal panico, prendo tutto e vado in cucina. Però questa signora, questa ragazza della commissione, praticamente voleva vedere la porta. Infatti tanto è vero che ad un'altra ragazza c'erano delle scale e gli aveva chiesto di inquadrarle. Però vabbè, però nella cucina non c'era la porta. Allora prendo tutto di nuovo, vado nella stanza, tutto ciò, a telecamere spente, poi vabbè l'avevo uccisa frontalmente. E prendo le cose inutili che c'erano ingombranti e li putto tutti a lato. E inizialmente volevo metterlo in un altro posto, il telefono, più dietro. Solo che poi ho visto anche gli altri, quindi ho cambiato postazione dal telefono e praticamente l'ho messa tipo qui, che si guarda un po' da dietro. Ma diciamo che si deve vedere quello che fai, lo schermo, quindi sei ben visionato. E alla fine dei conti poi abbiamo fatto una piccola prova, una simulazione di come sarà il test, ma era di 15 minuti. Ma c'erano 4 domande, quindi è durata veramente 2 minuti. Ecco, però io una domanda l'ho sbagliata, perché era una che riguardava il Presidente della Repubblica, invece di mettere 7 anni, ho messo 6. E quindi ho sbagliato oggi un anno, però alla fine non fa niente, perché di regola non vale niente. Quello che abbiamo fatto era solo una sorta di cosa per, tra virgolette, farti ambientare. E in tutto ciò, incrocio le dita di passarlo quest'anno, ma se mai, se non riuscissi a passarlo anche l'anno prossimo, speriamo bene. Nel caso noi la valigia per pavia la facciamo lo stesso, perché io me ne voglio andare da questo paese e lontano da tutto e tutti. Magari poi faremo un'altra facoltà e se si può si convalidano gli esami. E vi faccio capire che io poi, preso dall'ansia, ero andato a guardare anche le graduatorie degli anni passati per vedere quante persone fossero appunto state non ammesse e ammesse. Però quelle non ammesse erano poche, erano tipo quando 3, 4, quando 5, 6, comunque su parecchie persone. Quindi ho un po' di fiducia e niente. In realtà io i test li faccio prevalentemente di mattina, perché io poi, vabbè, mi sveglio per le 9, massimo, massimo 9 e mezza. Faccio la mia colazione con latte, caffè, cappuccino. Mi faccio quella partitella a The Sims 4, perché per me è letteralmente un'ossessione quel gioco. Scrivete qui sotto nei commenti chi quanti come me. E poi, vabbè, mi faccio quella mezz'oretta di test. Però me li faccio solo di mattina, perché il pomeriggio non mi viene quella cosa di dire, ok, voglio farmi dei test. Anzi, il pomeriggio lo posso a suonare tutto il pomeriggio la chitarra. Cioè, suono, canto, faccio tutt'altro. Potrei andare anche a mare, però non ci vado. E anche se ho fatto solo due bagni fino ad ora, mi sono affronzato, ma pochissimo. Però essendo che sto in ansia, da un po' di giorni a questa parte. Adesso il mare lasciamolo stare per magari fine giugno, inizio luglio. Andiamo a mare. Adesso pensiamo un attimo a questo test e speriamo che possa andare per il meglio. Perché comunque è una parte del futuro. E a pensare che adesso a settembre sarò in quinto superiore. Ah, finalmente, cioè l'ultimo anno di vita. Alle superiori, ma anche qui, perché me ne andrò. Da una parte è brutto da dire, però voi non potete immaginare quanta sia la mia voglia di volermene andare. Sinceramente, domani non so neanche cosa mettermi. Ho pensato a una camicia nera, anche se comunque a pranzo. Però a delle fantasie gialle. Se non sbaglio, pure grigie e bianche. Ora devo vedere meglio. E avevo pensato di mettermi un pantalone bianco. Magari pure grigio. No, però grigio non ce l'ho perché l'ho messo a lavare. Perché l'ho utilizzato. E quindi sì, credo che mi vestirà così. L'unica cosa che non c'entra in questo outfit sono le scarpe. Perché sono, come l'avete viste nei videovlog, sono quelle là bianche, beige e verde. Non c'entra niente il verde, però ce lo facciamo centrare. Però il verde perde speranza. Verde, boh, soldi, fortuna. Il verde ha tanti significati. E in realtà c'ho pure delle scarpe nere. Però non mi piacciono, sono un po' rovinate. Poi vabbè, a parte che mi vesto sempre nero. Le maglie ce le ho quasi tutte nere. Ovvio. Quali sono senza scritte, quali non le scritte. Ne ho parecchie. Infatti quando sono andata a Pavia, quando era una settimana fa, due settimane fa, non lo so. Ho comprato due maglie. Una che sono due colori, diciamo pastello. Una celestina. E una, un piardino. Acqua. Una cosa del genere. E niente, come sempre, lasciate un commento che possa essere un'opinione, un consiglio, una proposta per dei video. Insomma, quello che vi pare. Vi ricordo che ogni mio video esce lunedì, videoblog e sabato video smr. Anche se sinceramente credo che l'ordine dei video si rivoluzionerà quest'estate. Ma come ogni estate. Perché farò due video smr a settimana. E magari, come consiglio vostro, un videoblog. Se magari ho qualcosa da farvi vedere e raccontarvi. E poi magari mi fate sapere se volete sapere l'esperienza riguardante il test. Se volete proprio un videoblog. Anche se questo mese di giugno due videoblog minimo usciranno sicuro. Perché li ho già registrati. E infatti questa settimana non lo sto facendo il videoblog. Perché appunto, oltre a farvi vedere che gioco a The Sims. Che faccio i test per esercitarvi. E suono la chitarra. Non faccio nient'altro. Dovrei iniziare a lavorare. Ma sinceramente non so neanche quando. E sì. Però vabbè. Questo è un altro discorso. E quindi niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao.